Tutti amici del Cielo Sguardo, benvenuti per questo nuovo appuntamento, oggi sono qui per parlarvi del canale Telegram perché grandissime novità e tantissime 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 proprio novità ma ve ne parlo tutto nel dettaglio subito dopo la sigla Ecco qui, come state vedendo alle mie spalle c'è un cielo meraviglioso un'atmosfera fantastica e ho colto l'occasione, visto anche perché il tempo me lo permette, di parlarvi di Telegram lo faccio in questo video dove vi spiego cosa è successo con Telegram Allora Telegram lo stavo abbandonando, ecco parto da questo presupposto però quando lo stavo abbandonando mi sono detto perché devo proprio proprio abbandonarlo Perché devo arrendermi? Proprio nel momento in cui stavo andando per fare abbandona canale e cancella canale mi sono reso conto che stavo per fare il mio più grande errore perché non bisogna arrendersi mai nella vita, mai Anche se il canale Telegram sta soffrendo, pochi iscritti a confronto al canale Telegram e io mi sono detto ma perché devo dar la vinta alle persone che se ne sono uscite Ok, ma prima di andare avanti nel discorso e parlare e andare avanti io vi dico come sempre iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere avvisati ogni volta che l'altro sguardo si vede un nuovo video e così partiamo Allora partiamo dal primo punto se uno non vuole che il telefono gli faccia scusate la mia euforia basta andare nelle impostazioni di Telegram e fare e impostare che non ricevi le notifiche o addirittura nessuna suoneria quindi quando ti arriva non suona puoi fare in tanti modi non c'è bisogno perché tu persona non gli dà fastidio aspetta che noi non pubblichiamo ogni giorno settimanalmente 4-5 volte alla settimana però dico non siamo così affluenti su Telegram lo facciamo spesso ma non tutti i giorni sì ogni tanto i link, ogni tanto gli sfondi ogni tanto e di questo ne parlerò tra poco però non siamo così troppo ok io posso capire che per motivi di familiare o per motivi di lavoro per motivi magari il telefono che ti squilli sempre può dare fastidio ma non c'è bisogno abbandonare il canale Telegram solo perché ti sta dando fastidio il fatto che ti arrivi la notifica allora quindi non potevo dare vinta a tutte queste persone a cancellare il canale solo perché da 50 più o meno iscritti siamo arrivati eravamo arrivati a 30 adesso siamo a 39 non molti di più però adesso è cambiata qualcosa mi ha fatto scattare quella miccia che mi sta dicendo o quell'ingranaggio insieme a questa miccia che girano insieme che mi stanno dicendo non lo abbandonare e vai avanti per la tua strada è quello che io sto facendo infatti io sto continuando a crederci perché questo canale Telegram può crescere sempre di più e iscriversi a un canale Telegram come dico anche per il canale YouTube non serve una laurea basta cercare il canale Telegram in questo caso oltre lo sguardo e pigiare unisciti al canale o unisciti in basso quindi non non vi fa male il dito se lo fate ecco potete farlo tranquillamente potete entrare a far parte della nostra comunità della mia comunità oltre lo sguardo anche su Telegram anche perché le sorprese mentre vi racconto mi stavo affogando in diretta anche perché le novità su Telegram sono tante allora prima di tutto gli sfondi chiaramente qualcuno dirà ma già lo facevi no già lo facevo ma le facevo al computer ora gli sfondi sono foto reali scattate da me con la macchinetta con il mio proprio iPhone 13 Pro ma sfondi proprio reali scattati e utilizzati per sfondi in alta risoluzione per i vostri smartphone quindi questo è già il primo punto importante e novità del canale Telegram perché prima io me li facevo al computer e oltre lo sguardo io li facevo al computer e design diciamo fatto a mano sul computer senza diciamo uno sfondo reale però però invece adesso sono foto reali della realtà di natura di campagna di cieli di notturne di natura di piante di macro di tutti i tipi ma sono foto reali non create al computer con create in 3D create quello non esiste più sono solo foto reali già qualcuna l'ho aggiunta quindi o meglio ancora non l'ho aggiunta e ancora non l'ho aggiunta e c'è qualcosa di vecchio ma tra poco inizieremo a farlo e oltre lo sguardo inizierà a farlo a farlo quindi ok mi sono un po' imbrogliato comunque si non so se quando vedete questo video già abbiamo iniziato a farlo meno però comunque sia se non l'abbiamo fatto a breve ricominciamo con le foto reali con sfondi reali non con foto finte fatte al computer primo punto secondo punto oltre lo sguardo inizierà a fare ogni tanto non sempre ogni tanto le audio streaming in diretta parlando di un qualcosa di un oggetto di un prodotto presentendomi un qualcosa o parlando di qualcosa riguardante la fotografia al video che poi è il punto crociare del canale diciamo il punto quindi quello è il secondo punto terzo punto i link i link che io condivido con voi per gli acquisti delle cose stando in offerta che vi dico anche questo vi dico anche questo io non guadagno nulla come vi dico sempre vi ho detto sia in altri video io facendo questo non guadagno nulla lo faccio perché voglio condividere con voi quello che io guardo chiaramente inerente alla fotografia del video e io voglio condividere con voi le cose che stanno in offerta ma lo faccio così perché mi piace farlo e condividerlo ma non perché c'è un guadagno dietro o perché Amazon mi dà qualcosa non mi dà niente e nessuno quindi questo è tutto ancora non ho iniziato per il semplice fatto che inizio dal Black Friday a farlo non inizierò diciamo prima quindi da Black Friday un po' con i link inizierò con i sfondi forse anche un po' prima però questo dipende da quando vedrete questo video e niente questo è tutto alla prossima con oltre lo sguardo a Grazie a tutti.